La nuova frontiera dell'estetica si chiama Diod System, di che cosa si tratta? Si tratta di un'apparecchiatura di ultima generazione, il campo dell'epilazione. È un metodo innovativo, è in dolore, è molto più veloce rispetto a quanto non lo sia stato fino adesso, la luce pulsata con cui noi lavoriamo da quasi 11 anni. Quindi abbiamo voluto presentare Quaggela in queste due giornate, oggi 24 e domani 25, questa nuova apparecchiatura e oggi e domani siamo qui per farla provare, dare una consulenza a tutti coloro ai quali fossero interessati. Quante sedute occorrono per ottenere dei risultati? Chiaramente dipende dal tipo di pelo, si fa una consulenza per vedere da persona a persona, da zona a zona, quante sono le sedute, però mediamente le sedute necessarie sono inferiori rispetto a quanto non sia stato necessario con la luce pulsata. E' quello che è importante comunque che è un metodo assolutamente innovativo va a risolvere una serie di problematiche, ad esempio chi soffre di follicoliti, chi ha problemi comunque di allergia o comunque di reazioni con la gera, è un metodo assolutamente rivoluzionario ed è sicuramente indicato anche per le persone più giovani, quelle che iniziano anche a trattare l'epilazione nel giusto modo. E' corretto dire che se si pensa ad un trattamento nel corso dell'inverno per l'estate prossima certamente l'epilazione sarà un pensiero in meno? Assolutamente sì, questo è il periodo giusto per iniziare con l'epilazione, il periodo ideale è l'inverno perché abbiamo il tempo per trattare in tutte le zone, il pelo è assolutamente alternativo agli altri metodi perché è molto 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 migliore rispetto agli altri, chi lo prova assolutamente lo potrà constatare. Ci sono dei soggetti che non possono fare questo trattamento? Allora a dire il vero in questo caso specifico la seradiodo va ad affrontare anche delle situazioni con cui non si poteva intervenire con la luce pulsata, ad esempio i fototipi più scuri in cui avevamo qualche difficoltà perché i parametri dovevano essere abbassati, invece con la seradiodo interveniamo anche su questi soggetti. Chiaramente tutti i soggetti, uomini e donne che volessero provare questo trattamento possono recarsi da l'idium praticamente da oggi e attivo questo nuovo trattamento assolutamente rivoluzionario e che è consigliato a tutti. Sì, da oggi in poi noi saremo qui a disposizione per fornire una consulenza gratuita, quindi facciamo un check up ma anche una prova a chi volesse.